amici di mondo blackberry.com sono genismart88 in questo video qui farò vedere un gioco per smartphone blackberry da nome tomb escape lo trovate nell'app world il prezzo è gratuito praticamente il gioco consiste nel scappare dalle scimmie in questo in questo tempio il gioco in questione lo abbiamo visto anche su ios su android però in questo caso qua un altro nome infatti su ios su android si chiama tempo run è un gioco che praticamente sta sta spopolando nel nel mondo del del web nel mondo del passatempo infatti sono delle classifiche appunti da da abbattere e lo troviamo anche per per smartphone blackberry il gioco è molto semplice praticamente il personaggio corre da solo e ci sono degli ostacoli da affrontare il quale dobbiamo saltare raccogliere degli oggetti e in questo caso qua nel caso mio che praticamente perdo molto spesso molto reattivo al tocco ovviamente il touchscreen del 999 compatibile anche con con altri blackberry come dicevo nell'anteprima il gioco è gratuito per perdere cinque minuti di tempo a volte si può anche fare una partita per mondo blackberry.com geni smart 88 alla prossima ciao Grazie a tutti.